Una buona giornata, buona mattinata a tutti voi cari telespettatori di FanoTV, come sempre Ben ritrovati, ben situizzati sul canale 19 del Digitale Terrestre, dove tra poco o tra un istante inizia la rassegna stampa Il commento alla stampa del giorno e vedremo quelle che sono le notizie, a nostro parere, più interessanti Che troverete sui due quotidiani che ogni mattina vi proponiamo, sono il resto del carino e il Corriere Adriatico Allora come sempre andiamo a vedere l'almanacco con il santo del giorno, oggi è Santa Rita, scusate Santa Regina di Alise Il sole è sorto, non so perché mi è venuto Santa Rita, no? Vabbè, forse perché ci stavo pensando prima Alba ore 6.38 e il tramonto alle 19.34, adesso andiamo a vedere il tempo Prima però di andare a vedere il tempo spalanchiamo la finestra, vi porto questa mattina Ehi là, guardate un po', non sul mare come faccio spesso, no, come faccio tutte le mattine quando conduco io Ma questa mattina vi porto in montagna, qui siamo a Bolognola, in provincia di Macerata Quindi sempre nelle Marche, adesso è uscito fuori il sole Quindi guardate, ecco, questo scorcio di montagna è un po' dove vorrei essere io in questo momento Dico la verità, in mezzo alla natura, con gli animali Siamo qui nel perfetto silenzio a contemplare questo scenario stupendo Immagino dall'altra parte si vedrà il mare, si vedrà comunque, si vedrà insomma tutto il paesaggio E allora, ecco, questa mattina vi regalo questa immagine che arriva in diretta, arriva in diretta Proprio in questo momento, va bene, poi una bella tazza di latte caldo, lì sarebbe il top Intanto invece, torniamo con i piedi per terra, andiamo a vedere il tempo per oggi, mercoledì 7 di settembre Avremo qualche pioggia nel pomeriggio, brevi o isolati rovesci, piovaschi nel pomeriggio Come vedete anche nell'Anconetano per quanto riguarda la costa Il resto, ecco, la montagna sarà interessata dal tempo cattivo Ma domani, domani in realtà la protezione civile delle Marche prevede dal pomeriggio rovescio temporali sparsi Più probabili lungo la fascia costiera Anche i venti, i venti si rinforzeranno fino a diventare vento moderato nel pomeriggio Con raffiche fino a burrasca invece Attenzione nelle zone alto collinari e montane Poi vento forte anche sulla costa Per venerdì il tempo migliora leggermente C'è qualche residuo di pioggia, rovesci isolati e sparsi nella prima parte della giornata Quindi al mattino sulla costa sanbenedettese Per il resto, insomma, tornerà lentamente il sole Giornate di sabato e domenica caratterizzate da deboli instabilità pomeridiana Miglioramento invece dall'inizio della prossima settimana Adesso i giornali, cominciamo dal resto del Carlino Prima pagina dell'edizione pesarese Dal campus mancano le aule Il titolo della fotonotizia di oggi Emergenza per il liceo Marconi e il tecnico Bramante Genga Servono nove locali Poi la notizia d'apertura Mio figlio molestato dall'orco Gabisce il racconto della mamma del minore Che è riuscito a divincolarsi Il fatto è venuto nel bagno dell'hotel Poi si parla anche di noi Fano TV svolta dopo 17 anni Marco Ferri lascia l'attività Subentra una cordata locale Coinvolte società civile e imprenditoria Poi sospeso da scuola Come punizione c'è il lavoro utile Altre notizie dalla prima pagina del Carlino Ogni anno circa 40 studenti Si vengono inseriti a fare lavori socialmente utili Un po' per ripulirsi un po' la coscienza Brodetto festa Trionfo di giusti Venerdì si parte Il brodetto festa è una delle manifestazioni Più interessanti del fine estate La festa dell'anno invece per dare speranza a chi non ce l'ha Parliamo dei volontari ospedalieri Poi ex indipendenza Appalti al via Ecco gli uffici che traslocano il centro Pesaro Che cambia VL contro Chieti ma senza pubblico Repesia chiude anche gli allenamenti E poi quel murale Un simbolo non potete abbatterlo A Borgo il quartiere si ribella Il caro vita Gela il chilometro zero Invece il titolo scelto per l'apertura di oggi Dell'edizione di Pesaro del Corriere Adriatico Tendenza legata a più fattori Molti articoli sono aumentati E si torna al discount a caccia di offerte Dalla frutta agli ortaggi I timori di associazioni produttori e consumatori Per gli aumenti dei prezzi Perché se da una parte il chilometro zero Ci garantisce comunque una filiera corta Quindi senza troppi passaggi Dal campo alla tavola Però costa Il chilometro zero è inutile dirlo Anche se fa poca strada Comunque costa per tutta una serie di questioni E la gente che si ritrova a dover fare i conti Con bollette salate Le cose che sappiamo benissimo Quindi sceglie evidentemente il discount Dove trova ahimè materie prime Magari un po' più scarse E quindi che fanno male alla nostra salute Ma comunque che danno la possibilità di risparmiare Perché alla fine è quello che conta Mica poi tanto così Ma comunque i conti sono quelli che devono tornare Alla fine del mese A centro pagina Fede Matteo Nozze infinite Dopo Pesero la coppia a Torre di Palme Nel Fermano E poi ancora le notizie in breve Asili Il Comune annulla gli ordini per le mascherine Perché dicono non servono più MMS Cioè Marche Multiservizi Lab è pronto La struttura è pronta per partire S'aspetta solo il Via Libera Dove poi chi vorrà potrà andare a farsi La quarta dose di vaccino Guidi e Purato L'opposizione attacca la giunta Siamo sulla cronaca di Urbino Poi la nuova giunta Cioè la nuova giunta marchigiana Perché sapete che ci sono diversi candidati Alcuni di questi potrebbero andare anche in Parlamento E quindi dovranno lasciare la giunta regionale Allora si parla di Ciccioli Di Tisi Antonini Come nuovi assessori Questo è l'articolo di spalla Qui sulla prima del giornale delle Marche I ladri invece armati di piccone Cercano di forzare il bar Siamo di nuovo a Pesero Due furti tentati nella notte Tra Pesero e Fano Allarmi e vigilanti E fanno scappare però i malviventi Poi Fano Sfilano le ragazze per la finale di Miss Italia E questa è la notizia Che arriva dalla città della fortuna Poi da Falconare invece Partiamo dalla cronaca Perché c'è stato un tamponamento shock Sulle strisce pedonali Daniela Tufì Travolta da un'auto La Volponi La vedete in questa immagine Insieme a Vasco Rossi La Volponi portava a spasso il cagnolino a Villanova È morta a 57 anni Era una grande fan di Vasco Rossi Dunque Tufì è volata in cielo Daniela Volponi era innamoratissima di Vasco Rossi Oltre che della vita Dei cagnolini e della natura Fino a ieri il suo sorriso dolce Faceva felici tutti quelli che la conoscevano Ma il destino crudele Quel sorriso l'ha spento ieri mattina alle 9 e un quarto Sulla via Flaminia a Villanova Nel quartiere che da nord conduce al centro di Falconara È stata investita vicino casa Da una Mercedes classe A Condotta da una signora di Montemarciano Che si è fermata per consentire alla donna Di 57 anni residente da tempo Di attraversare in via Flaminia La strada però poi non è stata lei a prenderla sotto Lei si è fermata Un po' come succede spesso Uno si ferma per far passare la gente che deve attraversare E poi da dietro ti arriva quell'altro Che fa il fenomeno E poi fa i danni E così è successo E quindi una Ford Fiesta L'ha centrata e l'ha uccisa Andiamo invece a San Benedetto Epic Car Monopattini in fiamme Le batterie esplodono come petardi Materiale elettrico a fuoco Danni per un milione Nube nera sulla riviera Appelli a tenere chiuse le finestre Dunque questa è un po' la situazione Ieri con le fotografie Che fanno capire esattamente un po' come è accaduto In questo deposito dove si è sviluppato l'incendio Che ha provocato questa enorme nube nera Visibile anche a chilometri di distanza Poi ovviamente tutta l'area è stata analizzata Con i tecnici dell'ARPAM al lavoro Per analizzare sia l'aria che l'acqua Torniamo a Pesero invece Dall'arresto del Carlino Mio figlio molestato in bagno dall'orco Qui siamo a Gabice Gabice Vane Ma si è divincolato e ha dato l'allarme Il racconto della madre del minore di 9 anni Il turista 85 anni Dopo il fatto ha mangiato sempre in camera Ed è in partenza Dunque parla la mamma di questo bambino di 9 anni E non di 11 come sembrava in un primo momento Molestato sessualmente da un turista di 85 anni In un hotel di Gabice Mare Tutto è venuto sabato scorso alle 21.30 Nel bagno dell'hotel di Gabice Dove la mia famiglia passa da sempre Dice le sue vacanze Noi veniamo dal Piemonte E quest'anno mio figlio di 9 anni E al mare con i miei genitori Cioè i suoi nonni E sabato scorso il bambino ha chiesto di andare al bagno E il nonno diciamo a piano terra Quello di servizio dell'hotel E una volta che è entrato nello stanzino Dove c'è il WC Accosta la porta Però non la chiude Improvvisamente Dopo un secondo entra nella stanza Questo turista svizzero di 85 anni Che chiude la porta dietro di sé Per fortuna non ha chiave E comincia a toccare le parti intime di mio figlio Poi c'è tutto il racconto Chiaramente non è una È un'esperienza terribile La terra di Acquaroli La terna di Acquaroli invece è questa Parliamo adesso di politica Dal Corriere Adriatico I tre nomi che dovrebbero entrare Per sostituire eventualmente Gli eletti e quelli che andranno in Parlamento a Roma Tisi, Antonini e Ciccioli E ecco i nuovi assessori Un summit tra governatore maggioranza E giochi quasi fatti per la nuova giunta Così A parte il fatto che anche se non entreranno Ormai i giochi sono fatti Questi si sono candidati Quindi ciao Che vadano o non vadano a Roma È la stessa cosa Adesso ho detto una inesattezza Così nella nuova squadra Un rappresentante anche per l'Anconetano E il Fermano Dunque Chi sono Chi fa parte di questo rimpasto I nomi in poll per la giunta Sono appunto Ciccioli Che è di Fratelli d'Italia Che potrebbe andare al turismo All'assessorato al turismo e porto Oppure Daniela Tisi Della Lega Che potrebbe andare appunto Alla cultura e all'istruzione E poi Andrea Antonini Della Lega Sviluppo economico I cambi invece nelle commissioni Sanità Anna Menghi Al posto di Elena Leonardi E Andrea Assenti Al posto di Andrea Antonini Mentre Dalla pagina 10 Del Corriere Adriatico di oggi Le mascherine non servono più Non le dico io Non lo dico io Che A leggere qualche commento Sono Di quelli Che ha perso il lume della ragione Da dopo la pandemia Che è un complottista E quant'altro Le mascherine non servono più Il comune Annulla le forniture Agli asili La decisione Alla vigilia Della riapertura Dei plessi Dell'infanzia Previsti Per lunedì prossimo Va bene Poi Chiaramente Ci sono anche Gli incontri I summit Per Come abbiamo visto Nell'apertura Per Nei campus Dove vanno Gli studenti più adulti Perché insomma Anche lì Mancano le aule C'è bisogno Di Spazi E comunque Vedremo poi Aggiusteranno Come sempre fatto Insomma Prima dell'inizio Della Della Campanella Allora Valcesano invece Marotta Si asfaltano le strade Al via lavori per 200.000 euro L'assessore Tiritiello Annuncia anche un'altra serie di interventi E di migliorie Quindi sono partiti in questi giorni Numerosi interventi Programmati dalla giunta Barbieri Sulle strade E non solo Del vasto territorio comunale Asfaltature Ed altri lavori Per un investimento Che superi 200.000 euro Poi Don Leonardo Invece Qui è la notizia Più in alto Don Leonardo Pelonara Domani alle 18.30 Nel santuario di Mondolfo Celebrerà la messa Per i dieci anni Di sacerdozio Allora La cronaca ancora Dal Corriere Adriatico Da Pesaro Due furti sventati nella notte I ladri scappano Per l'allarme Interviene la vigilar In un negozio di pasta fresca E in un distributore Di carburante Dunque Volevano sfasciare il bar Del distributore di benzina Con il piccone Per raffare tutti i soldi Due furti sventati nella notte A Pesaro e Fano Grazie alla sinergia Tra gli operatori della vigila E le forze dell'ordine Il primo colpo A Pesaro è andato in scena Alle 3.36 Di notte In una gastronomia Cioè la pasta fresca La madia In via Casella Nella zona di Villa San Martino I ladri Hanno cercato di forzare la porta Ma Ha suonato l'allarme E quindi è arrivata La pattuglia della vigila Che è corsa Al locale Constatando appunto Il tentativo Di frazione E poi C'è l'altro Appunto L'altro Qualche minuto prima Alle 3.08 Della notte Tra lunedì E martedì Altro tentativo In un bar Però questa volta Della stazione di servizio A Fano Il Kuwait Sull'interquartiere Vicino alla Cop Quello un po' Spesso è preso di mira Qui a seguito Delle entrate in funzione Dell'allarme Perché ci sono le vie di fuga Capito Verso l'autostrada Verso la superstrada Quindi sono quelli Che prendono di mira Soprattutto quelli che hanno Diciamo le strade Più larghe Poi per scappare Qui a seguito Delle entrate in funzione Anche qui dell'allarme Gli operatori vigili In servizio Hanno subito Attivato le telecamere Il circuito chiuso Individuato due persone Incappucciate Che stavano tentando Di forzare la porta Del bar Da Urbino invece Lezioni dal vivo L'università Riapre le aule Dopo due anni di pandemia Dall'ultima settimana Di settembre Si torna Tornerà Alla normalità Tra virgolette Senza più distanziamento E senza più mascherine Come vedete Anche qui Stranamente Magicamente Le mascherine Non servono più Risveglio post-covid Ecco la città Modello Sì la Presidente La Proloquo Ha visitato la città Siete un esempio Di vivacità Anche grazie Ai volontari Andiamo avanti Velocemente Ecco qua La pagina di farlo Del resto del Carlino Che Tanto vabbè Alle 16 Per discutere Della variante Di Gimarra Il Vice sindaco Cristian Fanesi Presenterà I costi Aggiuntivi Da affrontare Con il percorso Suggerito Dalla soprintendenza Che prevede Una galleria naturale Nel tratto Carmine Statale 16 E si parla Di una cifra Che uscilla Tra i 6 E gli 8 milioni In più Quindi da aggiungere I 20 milioni Oggetto Dell'accordo Comune E regione Del 2018 E quindi Quello di oggi Pomeriggio Si presenta Come un passaggio Politico Cruciale Poi La prima pagina Come vedete Dal resto del Carlino Si occupa Di Fano TV In particolare Del sottoscritto Perché? Perché ieri Sui social Ma già qualche anticipazione Vi avevo dato Anche se molto generica Ieri mattina Al termine Di questa rassegna stampa Vi avevo detto Di guardare Il telegiornale Della sera Perché comunque Ci sarebbe stato Un annuncio Che riguardava La televisione L'annuncio è stato questo Cioè Ho deciso Di lasciare appunto La guida La televisione Il posto di comando Di questa televisione Dopo 17 anni Quindi Ecco Il giornale Ha ripreso Sia il Carlino Che il Corriere Ha ripreso Questa notizia Questo posto Che io ho pubblicato Nel corso del pomeriggio Il titolo è Ferri Lascia Fano TV Passa una cordata locale Il fondatore Cede il testimone L'emittente È in buone mani Manterrò la tessera Da giornalista Mi dedicherò Allo studio Della sagra scrittura Questo È quello che scrive Il resto di Carlino L'articolo È di Anna Marchetti Che di cuore Ringrazio Anche per le belle parole Che ha speso al telefono Ieri con me In quei pochi minuti Che ci siamo intrattenuti E racconta Un po' Come appunto Sono andate le cose Andranno le cose Nei prossimi giorni Io voglio A questo punto Approfittare Dell'articolo Di Anna Marchetti Per dirvi Chi sono I nomi Di coloro Che appunto Prenderanno In mano La televisione Allora A prendere in mano L'emittente Cittadina Sarà un'accordata Formata da persone note Della società civile Dell'associazionismo Del volontariato E dell'imprenditoria Abbiamo Gino Bartolucci Presidente Della cooperativa Tre Ponti Stefania Bernarducci Presidente dell'associazione Tra le note Michele Brocchini Presidente del paese Dei Balocchi Saveri Olivi Presidente del club Mattei Protezione Civile Arido Severi Titolare del Conad Sant'Orso e San Lazzaro E gli imprenditori Michele Sorce E Roberto Taus E Giancarlo Torcoletti Ecco Questi sono I nomi I nomi Di coloro Che appunto Prenderanno Il mio posto Non mi chiedete Da quando Perché chiaramente Chi ha visto l'intervista Se ve la siete persa La potete rivedere Sui nostri canali social Tra poco Verrà pubblicata E non so quando Non so da quando Ma comunque Ecco Sono giorni questi Di transizione Quindi potete immaginare C'è tutto un passaggio E ancora Come diceva giustamente Anche il portavoce Magnanelli L'avvocato Per conto Dei nuovi soci Insomma Ci vorrà un po' di tempo Adesso non so Quantificare quanto Ma insomma E poi dopo Ecco Piano piano Ci sarà Questo passaggio Questa transizione Così scrive invece Sulla pagina Della Valmetauro Il Corriere Adriatico Anche qui L'articolo Di Lorenzo Furlani E lo ringrazio Per il messaggio Notturno Che mi ha mandato E che ho letto Questa mattina Appena Appena sveglio Grazie Anche a Lorenzo L'editore Ferri Lascia Fano TV Questo è il titolo Arriva a un gruppo Di gestione Ecco i nomi Che rilevano L'emittente regionale Per il fondatore Un percorso di fede Ecco Questo Anche qui Viene ripreso Un po' Il comunicato L'intervista Che io Ho rilasciato E poi Anche quello Appunto Del Il comunicato Della Accordata Insomma Ecco Quindi Anche qui Se volete Potete acquistare Il giornale E leggere Tutti i dettagli Che riguardano Appunto Questo passaggio Che certamente Qui concludo No Voglio concludere Però Con la pagina Di Fano Di Sport Non tanto Per Leggervi Le parole Di orgoglio Del Tecnico Mosconi Che dice Sono orgoglioso Di questo Fano Anche se c'è Da lavorare Ma perché Poi ieri sera È arrivata la notizia Del Della morte Di Aristide Iacchini Che è stato il presidente Del Fano Anche in Serie C Con lui L'Alma Arrivò Sesta in C1 Con Ciaschini Allenatore Con Nacchini Goleador 13 gole In 33 partite E Gli anni Sono 86 87 E Se devo tornare Un po' indietro Nella mia storia personale Ecco Sono gli anni In cui Ho proprio iniziato Il mio lavoro La prima volta Che io ho preso Un microfono In mano Fu proprio Nel 1986 Con All'interno Del Fano Calcio Con la guida Di Aristide Iacchini E quindi Come vedete Insomma Lui ha lasciato Questo mondo Per passare A miglior vita Ed è Così Per me Chiaramente Solo per me Non per Insomma Un segno Importante Perché Ecco Questo Tutto è iniziato Da lì Con Aristide Iacchini Nel Fano Calcio Proprio in quell'anno Nell'anno 86 87 Va bene Ci fermiamo qui Stasera c'è l'appuntamento Come sempre Con l'informazione Il telegiornale Occhio Alla notizia Io ringrazio Perché non posso farlo Materialmente Con i social Perché Sono arrivati Una valanga Ma una cosa Incredibile Di messaggi Chiaramente Qualcuno Qualcuno Di stima Molti Per fortuna Di stima Altri invece Che scrivono Era ora Non se ne poteva più E quindi Meno male Ma questo ci sta Perché dopo 17 anni È normale Uno che parla tutti i giorni E dice cose tutti i giorni Da uomo libero È normale Che qualcuno Non sia d'accordo Sulle cose che dico Da uomo libero E quindi Continuerò Per i pochi giorni I prossimi giorni A dire Da uomo libero Quello che penso Sperando sempre Di fare il bene E mai il male E per tutti quelli Che invece Mi vogliono male Dico semplicemente Che Non è bello Ma soprattutto Per chi Campa d'odio C'è una marea di gente Che campa di odio E campare d'odio Già su questa terra Un po' Vivere l'inferno Quindi spero e prego Perché possano cambiare Modo di Di vedere la vita E vivere la vita In modo diverso Cioè senza odio Cerchiamo di volarci bene E questo è un po' Quello che Che volevo dirvi Poi c'era un messaggio Ecco Un messaggio Che però mi è sfuggito Perché poi Ne sono arrivati Ne stanno arrivando tantissimi Però ce n'era uno Che era veramente carino Come dire Cerco di sintetizzarvelo Dice vabbè Però niente Volevo leggerlo Ed era una cosa carina Che mi piaceva Mi piaceva molto Vabbè in sostanza È un po' così La tipa dice Vabbè nel bene o nel male Quest'uomo Ha fatto il suo lavoro Ha lasciatelo in pace Ecco Grazie per averci seguito E buona giornata a tutti